Benvenuti, grazie di essere qui questo pomeriggio. Per noi come Biblioteca Antonio Baldini è un onore veramente aprire questo ciclo di letture a cura di Ivano Marescotti, Voci d'autore, che è un'iniziativa ideata e promossa dall'Istituto Bene e Culturale della Regione Emilia-Romagna, che ringraziamo caldamente di aver pensato alla nostra Biblioteca. Dunque, benvenuti a tutti, naturalmente. Questa rassegna che si intitola Voci d'autore è stata pensata dall'Istituto per i beni culturali per, come si dice in questi casi, promuovere la lettura. La Regione alimenta e sostiene la rete delle biblioteche comunali, come sapete, in tutta la Regione, e ha pensato anche di alimentare questo settore, cioè la promozione della lettura. Saremo in tutte le nove province, con nove autori diversi, tutti in qualche modo legati al territorio, come è il caso di Raffaello Baldini. Grazie e buon ascolto. Buonasera. Io, prima di cominciare la lettura, non posso non dire due parole. Si tratta di Raffaello Baldini, quindi è l'autore per definizione. Io ho sotto pelle le parole di Raffaello Baldini, sul quale ho costruito anche molto della mia carriera professionale, a cui ero legato, oltretutto, su un piano personale, affettivo. Dico due parole solo perché, intanto, credo che ho il dovere di scusarmi con i Sant'Arcangiolesi, con Silvia, figlia, con tutti gli autori poeti che sono anche qua, di Sant'Arcangelo, perché io sono veramente imbarazzato, lo so che siete lì col fucile puntato. Voi, voi naturalmente sapete che io non parlo in Sant'Arcangiolese, quindi tutte le poesie, tutti gli spettacoli di teatro che Baldini ha scritto, anche per me in particolare, con la sua autorizzazione, naturalmente, io li ho tradotti nel mio dialetto, che è un dialetto di Bagnacavallo, anzi, di Villanova, di Bagnacavallo, che è diverso, voi sapete, ogni cinque chilometri cambia tutto, qui in particolare, sapete? Per cui mi vergogno un po', nel senso di venire qui, nella patria, nel posto di Raffaello Baldini, il quale, fra l'altro, rappresenta Sant'Arcangelo fisicamente, visivamente, ne descrive gli angoli, le pietre, proprio, in certe poesie, e che traducendolo, io in altre poesie ho dovuto tradurre anche i paesi, naturalmente, dove erano ambientate certe poesie, come Sant'Ermete, per esempio, o Sant'Armoid, come dite voi, io non sapevo neanche che esistesse, prima ho dovuto spostare tutto, come dice Baldini, succedono cose in dialetto, e se succedono in dialetto, succedono là dove si parla quel dialetto, quindi se si parla il mio dialetto di Villanova, di Bagnacavallo, le cose che succedono, succedono là e non qua, quindi non è solo una traduzione, ma è un spostamento. Poi so che molti altri hanno tradotto e recitato la fondazione in altri paesi, e quindi io devo dire così, l'ho tradotta. Inoltre, mi fa piacere di cominciare questa serie di letture, chiamata la lingua viva, come è stata vivere le parole, perché questo testo è nato per essere messo in scena, in teatro, quindi con un personaggio vivo, fisicamente vivo, dietro le parole, sempre le poesie di Baldini sono dei piccoli monologhi, questo è nato per quello, quindi non è una lettura letteraria, ma è una lettura teatrale, perché è nata per essere a teatro. Quindi, un'altra cosa che devo dire, per chi conosce a memoria forse il testo, la fondazione, operando a teatro, sempre si fanno delle operazioni di manipolazione del testo, nel senso che si taglia qualcosa, si spostano le scene, si fa con Shakespeare, voglio dire, quindi, voglio dire, se si fa con Shakespeare, uno è autorizzato a dire. e noi, dico anche questa cosa, quando noi provavamo gli spettacoli di Baldini, questo no, perché lui non c'era più, gli altri, lui diceva, aveva un po' di timore a modificare, a tagliare, non a scrivere testo nuovo, ma, insomma, a pastrocchiare un po', e lui diceva, consideratemi un autore defunto, quindi, lui non c'è. La cosa che ho già raccontato un'altra volta è questa, che nonostante lui dicesse così, e mai, assistendo alle prove, ha detto una parola di disapprovazione di quello che facevamo, mai, ciò non di meno, considerato che lui si riteneva, fate come volete, in ogni caso non dirò mai nulla, abbiamo ricevuto due fax, in due volte, un fax, abbiamo ricevuto, dove c'era scritto, nel Carta Canta, c'era scritto, il tema, c'era scritto, il testo, nel testo stampato, c'è un errore tipografico, oddio, dove è? Là dove diceva che la mia sorella, noi leggiavamo e dicevamo, ha sempre da ridere sulle cose che faccio, più o meno, lui dice, no, non è così, lo dice là, è un errore di stampa, mia sorella ha sempre da ridire su quello che faccio, è vero, c'è un significato un po' simile a volte, ma diverso, ma il problema è che un'altra volta, sembra un paradosso, ci ha mandato un fax, dove c'era scritto, attenzione, tra quella parola e l'altra, c'è una virgola, e questo è indicativo di quanto Baldini ci tenesse a limare ogni singola parola, ogni singola virgola, e solo lui, solo lui, credo, può leggere come si deve le sue poesie, così come ha fatto, perché solo lui riesce a fare sentire gli endecasillabi che sono nel dialetto vostro, traducendolo nel mio, l'endecasillabo, non esiste più, se non trasformando tutto, quindi in questo caso è teatro, e ora leggo con i tagli e con il testo che ho utilizzato a teatro, per chi lo conosce sarà un po' strano, però questo è il destino di un testo dedicato e deciso per il teatro. No, ma ha delle trovate, delle volte, ieri sera nel caffè, che poi non ha mica friando il suo sacco, no, sono cose che lui le legge, perché lo è less, giornali, riviste, anche dei libri, e ogni tanto trovo una battuta, una frase, una cosa che gli piace, uslatè in clamante, e quando viene il suo momento la tira fuori, la dice così, per fare bella figura, per far vedere che lui, che poi magari è una roba, è il cere, che non c'entra mica niente, noi parlavamo, Enzo, e Geva, Enzo Le Fabre, lui diceva che, c'è delle volte la televisione che si addormente, ma è fatto il dormiti, e Luciano anche lui, ma anche quando ci sono delle cose interessanti, che è lui lì, è lì che dice, che sta a guardare, è un serbometro, lui va in un choc, che non se ne accorge neanche, e dopo, un cuscita, un capo spionito, e dice, ma sai, sai sta roba? Perché danno, intanto il programma è cambiato, danno altra roba, e lui giù a ridere, e lui gli scappa fuori, che dice, il sonno è il fratello della morte, ma su di, ma c'è entra, cosa c'entra? C'è una cosa, sì, qualche d'uno l'avrà anche detto, sono battute, così che, che in un primo momento, possono anche fare effetto, ma una vera e niente, non è vero, non sono neanche parenti, non sono, il sonno, sì, si dice, pare che dorma, però sono quelle parole di consolazione, dai, per consolare i parenti, che invece, pare che dorma, pare che dorma, sti domarò, le morte, no, non si deve mica più, quello non si sveglia più, no, il sonno è tutta un'altra roba, uno che dorme, us volta, us servolta, ronfa, parla, ride, piange, escurazza, non sta mai fermo, neanche se lo leghi, e poi sogni, o se fai dei sogni quando dormi, che oh, che ti sembra di essere lì, eh, succedono delle cose, che sono più vere della realtà, delle paure, che ti svegli, magari ti sogni anche dei morti, ma te li sogni da vivi, no, uno che dorme, è tutto un'altra pazienza, dai, no, sì, c'è, c'è anche il fatto che, è vero, che quando dormi, tieni gli occhi chiusi, come i morti, che però, qui, ci sarebbe anche da ridire, eh, perché ci sono dei morti, che muoiono con gli occhi aperti, e dopo, ti tocca di chiudere, con una moneta, che, che prima ci voleva una moneta, da cento lire, adesso, adesso, cioè, ci vorrà un euro, no, se basta l'euro, perché l'euro è più piccolo, e che pensi con un voodoo, una moneta di due euro, hanno per ogni oggi, che prima con la lire ci voleva un duecento lire, adesso quattro euro, ottima la frega, no, no, ma lui ha queste cose, così, dal scappè, a dire, che per far vedere che lui le robe le sa, che pure, la sarocca, insomma, voilà, dai, ma, come daste, ma, venite, tre e quattro da fa, eh, chissà cosa ha letto, cosa starà leggendo, è scappato fuori che lui, delle volte, si ricorda delle cose che gli sono successe, ma non gli sono successe, come? Si dice che gli sono successe nella vita, nel passato, che però lui, insomma, lui nella sua vita, nel suo passato, non gli risulta, ma allora, come la bittegna, gli sono successe sì o no? E se gli sono successe, quando gli sono successe? E lui lì ti risponde, in un'altra esistenza, sì, che lui dice che è esistito un'altra volta, ma non solo lui, che tutti abbiamo più esistenze, che uno rinasce tante volte, che poi la roba, dai, voilà, sono quelle cose che abbiamo sentito sbilanta volte, quella roba lì, dai, come sembra, che adesso non mi viene il nome, dai, è una teoria, quella teoria lì, come sembra, è un nome, ma che non va, non mi viene, che uno rinasce, 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 che la cosa dice però, in un certo senso, dipende da te, da come sei vissuto, sei fatto bene, sei fatto male, che rinasci, può anche essere una penitenza, una punizione, se hai fatto male, puoi rinascere per dire un che, una cavalletta, un bagarone, che se rinasce un bagarone, ti tocca di stare sempre all'occhio, che se scappi che ti vedono, ti danno spettagnette, che dopo ti tocca di rinascere da capo, a te vuoi che, che allora, che da bagarone, ne hai della strada da fare, te vuoi, prima di rinascere un leone, o c'è un lion, o una tigre, la tigre del Bengala, che sono, gli animali, si ho capito, sono degli animali, però sono degli animali, che te vuoi, mettere un bagarone con un lion, che pur, che starne su un elefante, non so se un elefante, che gli elefanti, campano, campano, vai avanti, che te stoffi, o addirittura le tartarughe, le tartarughe, ma ti ammurbi che più, non mori più con le tartarughe, campano centinaia di anni, ecco lui dice, lui dice che si ricorda, di quest'altra esistenza, che io glielo ho chiesto, ma che esistenza, cosa eri, che creatura eri, ma lui dice, non posso ricordare, sono cose, dice, di tanto tempo fa, forse dei secoli, io non posso ricordare, sì, ho così delle visioni, ma non posso essere preciso, ecco, le fodighe, perché poi anche lì, perché lui dice, che è tan simile a te, che non sei te che scegli, no, 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 non decidi te, cosa devi rinascere, no, è una roba superiore, dice, c'è un essere superiore, che dici, che tu adesso devi diventare questo, poi sarà quest'altro, tu rinasci così, tu rinasci cos'altro, che sgomba, un scapparsnighe, che se fa sul serio, ho disparito, che poi, che poi secondo me, no, ecco, no, sono tutte cose che, che le sempre la stessa roba, oh, l'importante è volere rinascere, sì, è vero, c'è questo desiderio, questo bisogno di, che uno, insomma, uno non vuole andarsene del tutto, dai, ma come, lasciare, chiudere per sempre, guinte porbiot fasul, che, che non è che a me in fondo, ecco anch'io, nel mio piccolo, ecco, tutta questa roba che ho, ecco, cosa faccio? Anch'io, questo mio mondo, la mia vita, quello che faccio, che, che se mi muoio, che mia moglie, anche mia moglie, no, non mi ha capito neanche lei, non mi ha capito, lei dice stato che, che, che non è stato solo per questo, eh, per quello che faccio, no, qualcosa ha significato anche questo, quello che faccio, ecco, poco, ma può aver influito, ecco, e io cerco di capire, ma non c'è una cosa che io non la capisco, o la vuoi capire, eh, a s'è, sette, no, più sette, eh, quasi otto, sette anni e nove mesi insieme, poi dopo, insomma, ho visto che, 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 no, che se ho legno, beh, no, no, eravamo innamorati, eh, ecco, ma in un certo momento, eh, ho visto che, che c'era come un cambiamento, eh, la nera più a camaprame, ecco, no, me ne sono accorto, me ne sono accorto, è stata una cosa che, 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 che mi ha colpito, eh, la prima volta che ho avuto questa sensazione, eh, che, no, è una roba da niente, no, è una roba da niente, eh, no, però, delle volte, sono proprio le stupidaggini, sono le cose da niente, le piccole cose, che si capiscono le cose grandi, insomma, insomma, ecco, prima, ecco, per dire, quando suonavi il telefono, eh, che mi cercavano me, lei mi chiamava e dice, oh, c'è la Mariuccia, il telefono per te? o se no, oh, cercano te, o non ho capito chi è, oppure, oh, ciao Virgilio, si è qui, te lo passo subito, eh, Virgilio, il telefono per te? e, e, un set momento, ecco, l'attacca che, che la tira e passò, e se mi cercavano me, telefono! sono parole? Telefono? Lei chiedeva, telefono? No, lì, lì ho capito che, che non ci sono state neanche delle grandi discussioni, ogni qui chi fa una cagniera, che persone sono fatte, no, se, se adesso qualche discussione, ma qualche discussione l'abbiamo fatta anche noi, che, che dopo però, dai, dopo, dopo viene la pace, eh, che, e la pace, ecco, quella è una roba, eh, che, che nel letto, che ci mettiamo giù tutti e due, arrabbiati, eh, ecco, e, lì, con la faccia al muro, a sfruttare cool, luce spenta, e lì, fermi sulla sponda del letto, ecco, però, ci sono i piedi, ah, o i pi, eh, lì, insomma, che si toccano, eh, no, no, anzi, non si toccano ancora, ecco, si sfiorano, ecco, si sfiorano, così per caso, si esprimono, anche se non parlano, perché, perché, perché i piedi, non parlano, i piedi, ecco, però, come si può dire, ecco, sussurrano, e poi c'è, allora c'è quel silenzio, e questo sussurro, e poi, dopo si, dopo si toccano, e te sei ghiacciato, ghiacciato, e lei è calda, calda, e, 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 dopo te, dopo te ti volti, dai, eh, ti volti, pianì, 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 eh, allunghi una mano, pianì, e, 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 e gliela tieni lì, sempre senza parlare, eh, lì la facò, gli, ma, l'andorme, nei cali, dai, infatti, un po', si volta, si volta, anche lei, la si volta, e poi allora vi avvicinate, sempre di più, sempre di più, sempre senza dire niente, eh, nel buio, sempre più, 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 se poi, poi attaccate, attaccate, e te con le mani, e dopo te con le mani, la senti tutta, tutta, che, che la disegni, proprio, come è fatta, e lei è fatta, è fatta, che, è, è, è come un miracolo, è, è un miracolo, è, è, ci dà, te, miracolo, eh, che, ci, 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 ti, ti, bisogna provare, eh, che, 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 no, è che dopo la roba, come ho da dire, la roba, la, si è svaporata, come ho da dire, cose, e siamo andati ognuno per, per la sua strada, ciao, ciao, è, è stato come un viaggio, ecco, un viaggio, abbiamo fatto un viaggio, abbiamo preso il treno, tutti e due a Bologna, eh, poi, a Vaciocare, ci siamo detti delle robe, siamo entrati in confidenza, è vero, abbiamo mangiato anche due biscotti, che mi li ha offerti lei, e poi dopo lei, è smontata, è smontata, a Lugo, e, e, e io, ho tirato dritto, insomma, insomma, non c'è mai stato quel, niente di, di proprio, ah, beh, sì, insomma, c'è stato quella volta lì, però i giochi erano già fatti, no, i giochi erano già fatti, ecco lì, quella volta lì, mi sono girati anche i maroni, mi sono girati, quando lei è andata dal dottore, vendete del dottore, a fare tutto un racconto, quello che facevo, quello che non facevo, eh, la mia mentalità, la mia vita, che poi io, cosa faccio, eh, cosa faccio, non mi pare che sia, non dotare a nessuno, è una malattia, non è una malattia, non sono matto, ecco, oh, e lui il dottore, il dottore, è stato a sentire, gli ha fatto delle domande, oh, l'induttore lo vuol sapere, avere, che dopo lui, lei è venuta a casa, eh, è, è tutto incassato, perché il dottore, dice, le ha detto, che dice, che sarà, dice, per riempire un vuoto, che lui, dice, sente così, come un vuoto, ha bisogno di riempirlo, e allora, fa queste cose, e lei, le era tutte incassate, perché non gli andava giù, questo vuoto, e allora dice, e allora tu, dice, avresti questo grande vuoto, che lo devi riempire, e ma chi so, lo servo a Zofoli, ma che me, ma sono me, ma come, cosa devo riempire io, ma che vuoto, o me lo, me lo ha detto il dottore, ho parlato col dottore, ma che dottore, non sapevo niente, ha fatto tutto da sola, insomma, con quale dottore hai parlato, con Balducci, ah, Balducci, Balducci, il nostro dottore della mutua, ah, sei andato da Balducci, sei malata, no, per me, dice, sono andato per te, eh, per me, ma, allora, non è male, dottore, per me, hai avuto anche te, si sono andato, dice, per questo tuo modo di fare, che sono degli anni ormai, ed è una cosa che, no, la scusa, la scusa, ma se sono degli anni, è normale, no, non è successo niente, non mi pare che sia successo niente, perché se una cosa viene all'improvviso, uno magari ci fa dei pensieri, ma se sono degli anni, non mi pare che ci sia niente, no, dice, c'è, 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 ma c'è cosa c'è, c'è che, che per te, è una cosa normale, quello che fai, ma non è normale, se tu senti questo vuoto, e ti tagli con sto vuoto, me l'ha detto Balducci, ho capito, ma Balducci non mi ha visto, non mi ha visitato, non mi ha neanche sentito, ma pur cazzo, viglia cazzo, insomma, cos'è questo vuoto? Questo dice, me lo devi dire te, me, no, toccherà il Mandela Balducci, che seppe del vuoto, io non sento questo vuoto, non lo sento, ma che vuoto, anzi, io sento il pieno, eh, che è evidente ormai, un'istà più niente, che la roba, che la roba te vuoi, è tra le poste, ma che poi il vuoto, all'ozza datti il vuoto, è venuto fuori quando ormai, quando ormai, la storia è già finita, purtroppo, perché è stata una bella storia, insomma, adesso io, a me lo sto qui da per me, che per fortuna i passai di là, sono andati via, sono andati a stare a bagnacavallo, che le belle che duveno ormai, e io, ho affittato io, che, che per me, è stata anche un'occasione, perché di là, c'è un bel magazzino, ho parlato anche col padrone, ho aperto una porta, se no dovevo sempre passare, per il pieno rotolo, e ho buttato giù, anche la rete dell'orto, e adesso ho quest'orto, qui sotto, che così, posso distribuire, tutta la mia roba, con un criterio, che io credo, insomma, ho cercato di fare meglio che si può, ecco, perché la roba, la roba, la roba, la cresce, che io sono da solo, consumo poco, dovrei consumare poco, ma quello che è venuto fuori, è una crescita continua, perché, ma, perché me, a te in da conto, tengo da conto io, a un po' di niente, ecco, io, non butto via niente, che non è, non è una passione, non è una passione, che non sono tirato, no, non è una micragna, no, ecco, delle volte a post di, questo è un po' di buono, quest'altro può essere utile, ma non è per quello, un'altra niente, non è per questo, no, io, è come un istinto, ecco, è un istinto da tenere da conto, ma che può essere sbagliato, poi è il mio istinto, eh, eh, che, che secondo me, no, che io può, ecco, ecco, è come, è come la mente in psicosi, con la roba, oh, ma no, mi è venuto il nome, ecco, è quella, quella teoria lì, la mente in psicosi, che ho l'arnese dopo la morte, poi l'arnese, poi l'arnese, poi l'arnese, ecco, perché per me la roba, ecco, la roba, io vorrei che durasse, che durasse, perché la roba dura, però deve durare di più, perché, come le scarpe, no, io tengo da conto anche le scarpe, anche la scatola delle scarpe, sì, eh, sì, che ho, ne ho, ne ho, che quello tengono del posto, eh, ma, se vuoi, ma quello però è cartone, è cartone, e il cartone tiene botte, se non c'è l'umidità, amo io, li tengo là di sopra, che è un, è un shot, ah, che vuoi, invece il shot, di sotto tengo le bottiglie, il boci, le bottiglie vuote, che, che prima, facevano i fiaschi, no, facevi fiespram, il vino, e stasera, vinti fiesco, i fiaschi, no, così, che di sotto, in cantina, ne ho, ne ho, dei fiaschi, che, 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 che poi, con i fiaschi, io ho fatto, più di un piano, eh, allora, ha fatto come con una scarina di plastica, che sta, ho una sola cletta, ma, con i fiaschi, ha fatto, ha fatto una bella stesa, con le culpe, perciotte, e poi dopo, un'altra bella stesa, con le culpe, ciore, poi un'altra bella stesa, con le culpe, ciore, culpe, ciore, ciore, culpe, ciore, sono, che te vuoi, ce ne sta, ce ne sta, tanti, tanti, eh, che te vuoi, che adesso, li fa più, non li fanno più, i fiaschi, adesso, non so, adesso, fa il boci, il boci fa, eh, c'è sves, albune, bianchette, eh, per la debit, la canina, che ne puoi di fare, si truella la canina, però le buone, le dolce, e io le bottiglie, le ho messe nel magazino di là, ce ne è, ce ne è, ce ne è che non le conti più, eh, e quando vado di sciotto, eh, che, che apro la porta, accendo la luce, un, le un mer, è come un mare di bottiglie, eh, perché ci sono tanti colori, un necotire rosso, un necotire verde, eh, che te vuoi, ecco, ecco, ci vorrebbe come una barca, da mettere, come nel mare proprio, è come un mare, una berca, e vai per il mare, eh, anzi no, anzi no, più che una barca, a me piacerebbe proprio, ma piacerebbe, ci terrei proprio, eh, che, ci terrei al massimo proprio, ecco, a me, mi piacerebbe avere un muscone, un muscone, eh, lo vorrei mettere proprio lì, solo al boccio, eh, come nel mare, perché la montagna, la montagna, a me mi piace il mare, la montagna, no, è bella, è bellissima la montagna, però la montagna, lei sta lì, le ferma la montagna, sta lì ferma, come un morto, no, non piace più, piace più il mare, ma che vai, vai, ecco, io penso che, ecco, io sdraiato lì, sopra il muscone, ecco, sgoglio, senza vederlo il mare, senza vederlo, perché deve essere anche più bello, senti solo, quel profumo, non, non la vi, ma non la senti, lo senti tutto attorno al muscone, e vai, vai, da solo, da solo, che allora senti, ci vuole come una romanza, è una romanza, o una barcarola, una barcarola, ma sono momenti che uno, perché la gente, c'è la zette, la zette, non è che non è che non è la zette, anche te però, sempre lì da solo, da solo, adesso questo è un discorso, mi fanno quel discorso della solitudine, che te lo ripetono, te lo ripetono, perché, perché non è che di spacca marone, la zette, ormai ho imparato, le mie stesse, voilà, che stai a rispondere, le persone, io non mi sento solo, oh, io, io, mi sento libero, ecco, io faccio, faccio quello che mi pare, faccio, come io per esempio, ecco, ho visto ieri, da Federico, Federico De Pes, ecco, che rinnovano la casa, ecco, e lì c'era una ringhiera, una ringhiera di ferro, una ringhiera di ferro, poi lì è appoggiato al muro, con un po' drasne, il ferro un po' di ruggire, dai, ecco, una ringhiera che era là, da centenne, non che fosse una cosa artistica, no, di ferro battuto, no, una ringhiera normale, ecco, da lo cascar di sotto, ecco, e io glielo ho chiesto, dico, Federico, e l'uomo ha detto, ma te ne fai un ragazzo, te ne portai? no, allora, mi sono fatto aiutare, e mi sono portata qua, e adesso lì nell'orto, che è una ringhiera, può sempre servire, anche se non serve, lei lì, sta là, non dà fastidio a nessuno, ma perché si deve buttare via la roba, eh? Cos'è questo fanatismo, che tu ti butti via dal montagna di roba, che anche la roba, anche la roba, come si può dire, ha il suo, come dire, anche le cose, perché le cose, le fatighe, non so, è come, ecco, è come un sentimento, un sentimento, ecco, perché, perché ho capito, il cane, il gatto, il cavallo, ecco, ah, ma loro sono vivi, loro sono vivi, gli intelligenti, che passa la roba, ti intendi con loro, ti conoscono, si affezionano, è un albero, un albero no, perché non parla, non ha la voce, è un albero, che poi c'è una cosa che le leggi sul giornale, non ha il tempo che bisogna di essere un professore, lo sanno tutti, un albero ha una sua vita, nasce, cresce, poi dopo muore, se te gli schianti un ramo, magari lui sente male, chi lo sa, eh, ma invece, se, se un animale urla, se vuoi, se urla, tutti quanti a difendere, no, la caccia, noi cacciatori, eh, e allora perché nessuno dice mai, non la pescano i pescatori, perché i pesci non parlano, non dicono niente, ecco, non è colpa sua, chi ne ha capasmi, chi ne ha capasmi, non ci pensano, loro non ci pensano, a questo, ah, ma te vuoi, ah, ma, se fossi te, ecco, se fossi te, eh, che sei lì che passi, vedi un bel pezzo di salsicce sulla greticola, un bel tosse, con un odore, te c'hanno fame da lupo, eh, e tu vedi quella salsiccia lì, cosa fai, non ci dai un morso, è lì che ti aspetta te, ti dai un bel morso, va là, ti dai un morso, e poi ci dai un morso, zack, da te, c'è un lamo che si infila nel palato, e uno dall'altro che, zack, mi dà un tiro che ti tira su di peso, e il lamo si infila in te palè, che ti, sempre dentro, nel palafino al cervello, un dolore, un meldeche, sangue in bocca ad affogarsi, che te magari, dopo ti senti che, dice, sono ferito, adesso mi portano all'ospedale, e tu ma non ho, lui strappa il lamo, senza l'anestesia, e poi ti botta in un bidon, e te stai sette, te non puoi parlare, non hai la voce, ah, ti ho detto, mi viene la salsa pataca, così ti sta bene, va là, ah, sì, che si impari, che lui non li para più lui, impareranno i suoi figli, ecco, i nipoti, ecco, e le cose anche loro, loro le cose non parlano, stanno zette loro, non parlano loro, ecco, e io in questa casa, tutte queste cose, loro cosa sono, cosa sono, e lo so io, insomma, lo so, è una popolazione, che ha i suoi gusti, ha i suoi simpatie, ci sono delle cose che, oh, non vanno d'accordo con delle altre cose, non si intendono proprio, non lo dicono loro, ma io lo sento, io lo sento, sì, i giudur, per dire, ecco, i giudur, i tappi, i giudur, ecco, per fare un esempio, i tappi, i giudur, oh, no, no, di giudur, di scatolò, ma però, se ne è che il suo posto, per dire, ecco, non è in un cassettino, magari in uno scatolone, altri invece è in un cassettino, insomma, non puoi mettere il tappo di un vinello da pasto, non lo puoi mettere vicino al tappo di uno spumante, dai, lo vedi, no, 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 lo senti, insomma, ci vuole che le cose, ci vuole delicatesse, ecco, sensibilità, che, anche loro, questo dice, ma questo, allora, è rassismo, eh, il tappo del Sampai, non può stare vicino al tappo del Sangiovese, questa è una forma di rassismo, ma, 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 c'è il rassismo, eh, che invece, è semplicemente, è una mia idea, che mi fa una idea fatta bene, ecco, io sono dell'idea, che ci deve essere un posto per ogni cosa, e una cosa per ogni posto, eh, non c'è il più e il meno, ogni cosa ha la sua personalità, sì, insomma, tenerla da conto, la roba, ecco, sembra niente, sembra niente, ma i problemi che ci sono, la roba, è un impegno, è un impegno grande, grande, un impegno, insomma, che può fare la cerina, perché da me viene la donna, eh, la cerina, la cerina, ecco, eh, due volte alla settimana, a fare le pulizie, e ma, ecco, io, ma, non posso farvi vedere, le robe vanno messe a posto, prima che lei venga, e le vede, ma come? Dice, ma come? Non va lì? Non è lei che, non lo prendi a posto, per mettere a posto? E dice, ho capito, ma non posso, dai, non si può, che arrivo sta donna, la porreta la trova, un casino, no, no, non può venire in una casa, che è un casino, dai, perché lei viene il pomeriggio, il martedì e il venerdì, ecco, e me, e merte, e vanno, ciò, le un castig, a lavoro, più di lei, lavoro, da stupere, insomma, per me la donna di servizio è una croce, che quando mi telefona, che il giorno dopo non può venire, far male una festa, perché l'impegno, l'impegno da fuori, non se lo può neanche figurare, proprio, ah, ma qui, qui ci sono, la roba, la roba che ho tenuto, eh, te vuoi, tanta di quella roba, ah, c'ho tutto, c'ho tutto, ho spagnoletti, come si chiama, spagnoletti, è quello lì, col filo, ecco, i rucchetti, quelli più grossi, i rucchetti, quelli di legno, che, che adesso ne fa più, e qui, non li fanno più i rucchetti, che se ho, e vuoi un rucchetti, boh, ah, e gli umbrelli, oh, c'è gli umbrelli, te lo, hanno una catastra degli umbrelli, che adesso, ho anche, ne ho anche, 20, 22 di quelle, quelle grandi, eh, che, che, in giudice, non fa più ogni quali, quelle grandi, verdi, di teli incerate, grandi, che, quando li aprivi, si stava sotto in 810, ecco, te vuoi, che, insomma, ecco, io, 810, 22, io posso coprire più di 200 persone con le mie ombrelle, eh, insomma, è un valore, è un valore, eh, secondo me, eh, no, 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 non le vendo, non per venderle, però è un valore lo stesso, ecco, io non vendo niente, ecco, e non solo secondo me, perché, come ho da dire, ne da conto, ecco, conservare, è anche un regalo che fai alla società, alla gente, che, 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 è qualcosa che va fatto, no? Che è giusto farlo, allora perché i musei? Cosa sono i musei? Non è tutta roba vecchia che la tengono da conto? Che puh, anche nei musei, te vuoi, no, i musei, io l'ho da stare alla percarità, non voglio mica dire, però i quadri, ecco, i quadri dei musei, ecco, io dico che i quadri, perché, perché io sono molto portato per il disegno, ah, sì, sono portato, anche per delle cose colori, te vuoi, che, ma ogni te, è che è un fatto spontaneo, eh, perché quando vedo qualcosa che, che mi piace, beh, ma te la, non daste la, la spola passata, la spola passata, che avevo preso della frutta, e l'ho messo in una zuppiera, eh, e la guardate, sta zuppiera da l'untè, bella, eh, ma sono solo, tic e tac, tic e tac, e l'ho pitturata, vai, ah, sì, bella, è venuta, bene, eh, perché per me, per me, il lato estetico è importante nella vita, eh, ah, dice, ma come? Se tiene da conto tutto, ma allora, ma cosa vuol dire, tiene da conto tutto, che ti piace tutto, non ti può piacere tutto, il lato estetico, è che uno distingue, c'è una cosa bella, e una cosa brutta, ma che una cosa ti piace, l'altra non ti piace, ma se a te ti va bene tutto, allora, le tue precise, non c'è più, nel bello, nel brutto, non scappare spionito, e io dico che non mi avete capito a me, da me capì, non mi ha capito, ecco, perché, perché, perché a me non, perché, io qui dentro, questo, questo è un mondo, eh, un mondo questo, nel suo piccolo, perché, piccolo, è una casa, non lo vedo, è una casa, però, ecco, qui c'è il mondo, e quindi c'è tutto, ci deve essere tutto, nel mondo c'è tutto, no? La bellezza superiore del mondo è questa, che se non ci fosse il brutto, non ci sarebbe anche il bello, no? E una cosa è bella, perché lì vicino c'è della roba brutta, il bello come fa ad essere bello, da parlo, sui miei brotti, e allora, che pure, la roba che, che è bella per me, a te magari non ti piace, e allora, ecco, e la roba che ti piace a te, a me la fa schifo, e allora, si scolgo a me, allora, sta buona, perché ti dico, che ti dico soltanto due cose, per farti un parangone, io, ho visto, ho visto le case, le case di giapponesi, sì, eh, no, non c'è se stai in Giappone, no, ho visto, il suo giornale, la televisione, ecco, ecco, è che loro vivono, eh, loro, hanno queste case, eh, agli avuti, nemiche niente, niente, eh, come mobiglie, ecco, e quella, qualcuno, quel poco che c'è, è tutta roba bassa, loro anche per mangiare, si siedono per terra, chi si batte, cosa si è cool, oh, 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 c'è delle camere che ti tocca andare per sentieri, però quelle case lì mi piacciono, soprattutto perché nelle camere c'è, c'è quella penombra, eh, ah, perché a me la, la gran luce, il gran buio, non, non mi trovo, un'emistere, no, a me mi piace la penombra, quando le cose quasi non le vedi proprio, eh, le intravedi, ecco, devi te immaginare, eh, ci deve essere qualcosa di nascosto che si indovina, mocherà, che però non lo vedi, oh, eh, ci deve essere anche la tua fantasia, te lo faccio la fantasia, ecco, come dappertutto, eh, in tutto ci deve essere la fantasia, perché se no, senza fantasia, eh, questa roba che ho messo in sede, insieme, come la sistemo io, eh, come la tengo, eh, anche qui ci vuole la sua fantasia, come dappertutto, dai, che oggi per dire, anche in medicina, anche in medicina, sì signore, diciamo, lì ci vuole occhio, occhio, non basta mica l'occhio, devi sapere le cose, perché oggi è vero, che con i trapianti, con i trapianti, come, it fan off, it rovolta come una calzetta, no, che, che, it cambia, it cambia il cuore, potere e la master, ti cambiano il cuore, perché, ho capito, il cuore, il fegato, la milza, il rene, ho capito, ma quello che fanno questi dottori, questi chirurghi, eh, la loro scienza, la loro esperienza, allora, quando se ne vanno con i piedi davanti, ecco, ecco, oh, ma non resta niente, un nuovo sapienino, che quello è, è un patrimonio, è una ricchezza, che va in polvere, eh, un nuovo sapienino, tutto il po' di affasur, allora io mi domando, e questa è una domanda, non si potrebbe, tenere da conto, anche, eh, è il modo, che non si debba scoprire un modo, un sistema, da trapiantare il sapere, eh, questo sapere, eh, dai, eh, si può fare, che poi, col progresso, si potrebbe arrivare al punto, che il trapianto, lo fai col day hospital, vedate la mattina, dove cala la sera, ecco, che poi dice, ecco, qui, bisogna stare attenti, perché c'è, c'è una difficoltà, una difficoltà, c'è, c'è anche grossa, eh, qui viene fuori, l'altro discorso, quello della bomba atomica, cioè, questo trapianto, questo trapianto del sapere, questa tecnica, deve essere tenuta segreta, segretissima, è come la bomba atomica, perché non è che possiamo avere tutti quanti una bomba atomica in casa, ma siccome che il progresso non finisce mai, infatti, magari un serbomad, niente sala operatoria, niente dei ospiti, niente, e basta un apparecchio, basta un apparecchio, che capta le radiazioni del cervello, e quell'apparecchio può diventare sempre più piccolo, piccolo, come un telefonino che sta in bisac, ecco, e allora, ecco, lì possono nascere gli abusi, e bisogna stare attenti, ah, ma io posso, che possono succedere delle cose che, ma sì, allora, allora, mettiamo, che c'è un grande professore d'inglese, un grande professore d'inglese, che sa tutto della lingua, della letteratura, della vita inglese, ecco, lui è alla stazione, l'erì un po' pristain, e lui è lì al bar, che prende un cappuccino, e una brioche, aspetta il treno, eh, lì vicino, c'è un malintenzionato, che deve andare in Inghilterra, ma lui non sa una parola d'inglese, che fa, e tira fuori l'apparecchio, tac, e c'è un po', tac, un altro bottone, e il professore lo vuce là come un patac con un sapio niente, lui, su inglese, è sparito, ha migliare rupè, letteratura, storia, niente, lui ormai d'inglese sa solo, autogrill, serial killer, è ok, ecco, che poi, che poi, cosa ti interessa della letteratura, la storia inglese, te sei uno che ha bisogno di andare in Inghilterra, per parlare inglese, per rispondere quando ti fanno domande in inglese, per capire l'inglese, è vero, per poter capire quello che ti dicono, ecco, allora, allora, cosa ci vuole a rubare l'inglese, a un inglese vero, che lui, cioè, lui parla bene l'inglese, anche sa qualcosa di più, un po', è la vera, perché, però so che ti dai sicuro che sei un inglese da buon, è la vera, ti metti lì davanti a una chiesa, o un museo, eh, e aspetti, un turista, un turista, puoi che sia, un turista inglese, ecco, perché ti dai sicuro che sei un inglese, perché se sbagli, dopo, ecco, quando che sei sicuro che sei un inglese, tiri fuori, il tuo pastoreo, che ti che tacche, che ti che tacche, che te sai l'inglese, come l'inglese, ecco, ecco, qui c'è il problema, eh, la cosa più antipatica è proprio questa, perché il turista, se il turista, è una persona normale, cioè un inglese che sa solo la sua lingua, solo l'inglese, dopo lui, come il maestro, rimane muto, ma che lingua parla dopo? Non si può esprimere, un po' di niente, lui va dalla polizia, ma la polizia come si dice? Perché la polizia magari, manda a chiamare un interprete, l'interprete la vive, non può parlare, non può dire una parola, non può neanche scrivere niente, perché ha appeso la parola scritta e parlata, e poi fai soldi, grazie, scarabocci, questi sono problemi altro che fantasie, questi sono problemi veri, reali, perché non si finisce mai, le cose cambiano, non ci stai dietro, non ci stai dietro, io non ci sto dietro, cambiano tutto, ma mi cambiano sempre, anche i vasetti della marmellata, anche la forma, delle volte, ma più spesso cambiano le etichette, la fanno sempre più colorate, sempre più belli, cambiano anche la scatola delle medicine, ma come dice, tieni da conto le medicine, ma scadono, ho capito, ma io non le mangio mica, le tengo da conto, allora, e anche lì, vedo il cambiamento che fanno, che la confezione, la rimodernano, continuamente, la fanno sempre più elegante, che è una roba, che però, io, ecco, questa è una cosa che non la capisco, perché, non è che tu prendi una medicina, perché si presenta bene, questa è una nuppia spiola, prendo quest'altra che è più bella, oltre a dati d'autore, che medicina devi prendere, devi prendere quella, è scritto nella ricetta, non so, non capire, si vede che proprio, si vede che se si presenta anche bene, ti fa anche meglio, chi lo sa, no, perché l'animo umano, l'animo umano, te vuoi, l'animo umano, è un pozzo senza fondo, si che, la sai, è una battuta anche questa, è una battuta, che mi fa venire in mente, le battute di quell'altro, che patà, che calà, che dice che sono il fratello dell'amor, sono quelle battute un po' coglione, che ti vengono così, e le dici, se è un coglione anche te, ecco, ogni tanto mi succede, no, però me ne accorgo subito, almeno sono accorto subito, ormai, e l'ho detto, cosa vuoi, perché magari uno, dà del coglione agli altri, ecco, fa dell'ironia, e invece, dopo, davvero, il maestro Liberani, aveva ragione lui, eh, cosa diceva, il maestro Liberani, lo diceva, la battaglia contro la coglionaggine, comincia da se stessi, ecco, no, perché è una battuta anche questa, eh, per carità, però questa mi sembra detta bene, eh, perché siamo tutti un po' coglioni, dai, no, adesso io parlo per me, no, parlo per me, ecco, io ho delle volte, no, veramente, davvero, cioè, c'è delle volte che mi sento un po' coglione anch'io, perché ho dei pensieri, che mi ritrovo delle idee che non stanno in piedi, ho delle opinioni che non condivido, ma gli ho, mi vengono, su che te che? basta dire che io, ecco, 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 alla mia età, non so, mi chiedo più o meno, ecco, ecco, io quando penso alla donna, perché ci penso, ci penso, sì, questa casa a me mi prende, però, però, come devo dire, ogni tanto penso lì, ecco, io, io, ecco, per me, per me sarebbe giusta una donna, una donina di 48, 49 anni, ecco, che è un'età, che ci sono anche delle belle donne, ecco, invece, ma no, io, mochia, non c'è niente da fare, io col passare degli anni, ma con la donna, insomma, non è una cosa logica, lo so, a son qua e ho, però è così, a me mi piacerebbe una ragazza di 24, 25 anni, solo che, trovarle, una ragazza di 24, di 25, bellina, intelligente, ecco, la mia coglionaggine, ecco, è qui, proprio, eh, sarò un queo, perché, perché, perché te la trovi, sta ragazza, ma dove è? Non la trovi, e io, almeno, non l'ho ancora trovata, ecco, ecco, l'altra sera, l'altra sera in piazza, ne ho vista una, parlavo con una sua amica lì, ecco, ecco, ero lì, al bar Tassadoro, pagiato dal bancone, che prendeva un aperitivo, e, e ho visto che, aveva, queste manine, queste mani, no, perché, si guardano sempre quelle altre cose, no, d'accordo, ma, al me, per me, ecco, per me le mani sono importanti, lì l'aveva stalmanin, giosti proprio, eh, giosti, fate bene, leggere, e le unghie, con tutti i pazzbiacchi, no, quelle robe lunghe lì, che, come un puo, no, no, non mi piace, non mi piace, no, insomma, degli unghie, normeri, un po' rosa, un po' bianche, ecco, e dico, adesso, adesso ci dico qualcosa, ci dico, sono andate via, e io sono rimasto lì, comunque, ho preso un altro aperitivo, ho mangiato 15, 20 olive, un sacchetto di patatine, le tutte, insomma, sgomberate il bancone, un altro aperitivo, la sola, la sola, si, il quale, gli effetti, il dottimo, quando ti scindate, te che per più niente, poi, puo' zirare con un po' la testa, e dopo, e dopo un po', ti viene anche, ti viene, quella, quella malinconia lì, la malinconia, voglio stare con la mia roba, vado lì, tra la mia roba vecchia, e mi metto lì, e sento delle canzoni, delle vecchie canzoni, no, ecco, la mia malinconia, è anche quando penso, a tutta questa roba, che ho in casa, cleppina, e anche l'appartamento di là, che sono solo due anni, ma l'ho affittata, però mi sono fatto, avuti parecci, con il lavoro, eh, e tutta, tutta sta roba, quando io non ci sarò più, dov'è la finì, e ho di un momento che mi ciappa, così come un ziramato a testa, no, perché a mio fratello, a mio fratello, lui sta a Lione, lui, a Lione, in Frezza, lavora là, è nella chimica, lui, e mia sorella, mia sorella, sta a Cisone, le maridette, con Dufiul, ma anche mio fratello, ha un figlio anche lui, è il più grande lui, però io la mia roba, sta roba, non lo so, anche loro non lo capiscono, non lo capiscono, quando io sarò morto, e quando non ci sarò più, tutta sta roba, che si potrebbe, si potrebbe fare la fondazione, una fondazione, senza scopo di lucro, la casa rimane così com'è, tutto intestato a questa fondazione, che poi la cosa può anche crescere, non deve mica essere un museo imbalsamato, deve essere qualcosa che vive, perché solo ci vuole un qualcadone, ci vuole un qualcadone, una persona, ma ci vuole, magari una segretaria, perché a me, insomma, anch'io ho tutto questo impegno, anni e anni di lavoro, che sono sempre lì, che cerco, che ci do, che raccolgo, porto a casa, mataposta, mataposta, però, ecco, però, c'è un però, c'è un, che, lei è una roba che, non lo so, che non so, anche a me, che sono fatte, gli disbelli, gli disbelli, che non so neanche io, sbagli, io stesso me lo domando, non so, io non so come sia successo, insomma, io non ho ancora fatto l'inventario, non so neanche io, quello che ho in casa, so che è tanta sta roba, ma non so cosa che mi è, e allora come la vuoi chiamare, uno che raccoglie la roba, la mette lì, non segna niente, non scrive, ma cos'è stato, stai un quaio, dai, perché se io, se io cominciavo subito, subito, quando ero gli inizi, che ho messo insieme le prime cose, cos'era fare delle schede, ma anche dei quaderni, ti metti lì, no, no, meglio, no, i quaderni, no, i quaderni no, meglio la scheda, le schede, che dopo, col quaderno, in ordine alfabetico, se c'è della roba nuova, da mettere a posto, devi andare indietro, non c'è i fogli, devi toccare un foglio con la cola, che va tutto un tacono, o no, è meglio, è meglio la scheda, che le vendono tutte le cartolerie, già bene pronte, no, la scheda adesso, ecco, è fare, è fare l'inventario, e adesso, è un po' tardi adesso, mettersi adesso, che delle volte, mi verrebbe anche la voglia, eh dai, ti metti lì, fai una camera, poi ne fai un'altra, pieni, 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 poi ne fai tutte, anche l'appartamento di là, no, no, io sono per la ricerca, ecco, perché, sono per il lavoro sul campo, a me la carta, gli elenchi, l'ordine alfabetico, insomma, il lavoro che io non ci sono tagliato, ecco, perché io dico alla fondazione, ma per la fondazione, vi vuole i baiocchi, ci vogliono i soldi, e io non è che abbia un capitale, dovrebbe farsi parte, i dirigenti, il comune, ecco, la provincia e anche la regione, sì, sì signori, perché io ho tenuto da conto, anche il materiale, delle propagande elettorali, di tutte le elezioni, e io ho un modro, che voi, voi, no, la roba, volantini, opuscoli, lettere, anche manifesti, sì signori, che qualcuno di notte li staccava dal muro, e io, e tu leva so, mi portava qua, c'ho anche un lapis, un lapis, sì signori, un lapis che lo regalava il Pli, Partito Liberale Italiano, una matita tricolore, bianco, rosso e verde, della campagna elettorale del 1976, insomma, cose storiche, solo che c'è le fadighe, bisogna che ci fosse, che questa cosa, insomma, che qualcuno capisse, il valore, il significato, cosa può rappresentare, per il nostro paese, questa fondazione, ecco, perché i baiocchi, non so, le fadighe, le fadighe, i fondi, le sempre fadighe, trovarli, però, però lo so, lo so, cugniamai un baiocchi, cugniamai, però dopo li vedi, che li spendono, oi, com'è, oi, hanno i soldi, per delle robe, ma è che stai, che è stato là, le sostelle, che per una fondazione così, niente, che dovrebbero dirti grazie, ma un grazie grande, perché io gli lascio una roba, che, 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 che però, se loro non lo sentono, se non sentono l'importanza che ha, perché io, io, io qui da solo, perché mi sono sempre da provare, non solo adesso, sempre da solo, sempre, sempre, sempre con le mie forze, mai che ci sia stato un interessamento del comune, mai, che ho anche parlato con qualche d'uno lassù, eh, no, intendiamoci, non ho mai chiesto niente per me, eh, no, no, ho fatto sempre con le mie forze, però, quando ti trovi così isolato, che, che devi pensare tutto a te, a un certo momento, perché, perché non hai neanche i parenti, che ti danno una mano, i parenti, ai omoli, ma che ne ho vado a farlo, sta bene, mi fratele, mi sorelle, e i figli, i suoi figli, sono anche peggio, è ancora peggio, che loro, tutta sta roba, eh, tutta sta roba, dopo, eh, va a loro, eh, va a loro, a chi vuoi che vada, no, che non ho neanche fatto il testamento, c'ho, è ancora un po' prestino, no, ho solo 69 anni, però, quando sarà il suo momento, questa roba è la sua, è di loro, tutto, tutta la casa, anche i muri, e loro, loro, a suo sicuro, loro, capaci che sgomberano tutto, eh, per loro, tutta sta roba, che qui c'è, qui c'è tutta la mia vita, e per loro, il mondo a sé, carichero tutto su un furgone, lo so, eh, eh, e bisognerà fare più di un viaggio, eh, te, voi, voi, voi avrà un tir, un tir, un tir, un tir, tutto qualche ora, tutto intorno alla mia vita, a massa monte, perché c'è, un tir, e via, e mulinata, scherchi e tutta la montazione, i miei sentimenti, e mi monti, perché mi voleva lasciare un segno, volevo lasciare un segno, che la mia vita durasse, e tutta sta roba, volevo che la fosse, che la fosse come di testimoni, ecco, di, no, 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 testimoni, no, 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 perché tutta sta roba le passa per me, è passata per le mie, ma io l'ho toccata, sta roba, è odelenma, ma ci ha dato l'anima, sta roba, e la roba, questa roba sono me, sono io, e l'aveva da durare, più in me, perché qua, una che ho l'arnesse, pure l'arnesse, pure l'arnesse, con che rischia, pataca, calale, che qua, tammur più, non mori più, perché, perché, perché ci rimane una sedia, una cravata, una bottiglia di inchiostro, oh, è vuota, sì, ma, è la bocca di inchiostro, che l'hai usata te, hai scritto te, un inchiostro, inchiostro, che, che, è una cartulina, una cartulina, che ti ha mandato un tuo amico, 20, 30 anni fa, salutissimi da Venezia, no, è stata come una lampadina, una lampadina, oh, è bruciata, poverina, siamo, quella lampadina, ti ha fatto luce a te, a te, ti ha fatto luce, e poi ci sono i cartoni del panettone di Natale, le scatole degli stussicadenti, e al CEVOS, le chiavi, le chiavi, ne ho, ne ho, ne ho, che adesso non aprono più niente, adesso, ma però ti hanno aperto tutto, a te, proprio a te, e in stentura, vuol dire, che ne ho, delle sveglie, ne ho, quelle grosse, che si caricavano, e tricche, 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 che adesso ne ho una, che va a pile, che quello, eh, non la carichi mai, non c'è bisogno di caricarla, che, che però le guardo, ogni tanto le guardo, le mie sveglie, anche quei sacramenti lì, col campanello di sopra, che quando suonavano, ti incicciuivano, eh, non la finivano mai di suonare, finché, finché ci rimangono le cartine delle arance, che, che quali, ne ho un cassetto pieno, eh, e quella, da buon, che ce n'è che fanno collezione, fanno collezione, dal che, del Melarense, e io ne ho lì, ne ho, ne ho che, che non si contano, e non è una collezione, no, no, quelle carte, no, quelle carte, sono io, sono me, e loro, butteranno via tutto, tutti ne quei, perché loro vogliono una casa vuota, loro, loro fanno rifare tutto, fanno rifare, il lavandino, il cesso, il cesso, l'ho più, il cesso, ecco, guarda, il cesso, c'è tutto, c'è tutto, la masca, la lavandina, il water, il bidet, certo che c'è, c'è qualche mattonella, che è un po' diverso, perché una volta si è rotto un tubo dell'acqua, che ho dovuto cambiare, ma le ho trovate, però che si somigliano, no, ecco, e poi, che vogliono fare tutti il bagno nuovo, no, ne vogliono, non un bagno, due bagni vogliono fare, perché loro, alla fine vogliono affittarla, affittarla, perché loro stanno in città, cosa vengono a fare, qui loro, l'affittano, l'affittano, a un forestier, e qui, sarà tutto un'altra, un'altra casa, un altro mondo, eh, sarà tutto diverso, sarà, un'altra vita, però, a me non mi sta bene, non mi sta bene, a me, da buttare via tutte le mie robe, quando io sono morto, e così, butto la mia anche a me, no, non sta bene, allora butto via io, piuttosto, le mie robe, la butto via io, da vivo, sì, signori, senza prepotenza, per carità, senza prepotenza, ma piuttosto, chi fa quello che vogliono loro, ma lo faccio io, con le mie mani, a voi, chi smanoccia l'ho, a voi, a sgomber me, a voi essere me, sono io che ho un mucchiato, sono io che smucchio, a voi essere me, fino in fondo, diciamo di tutte le robe che, lo so, tutte le robe che non conta niente, non servite a niente, la so, ma se dove sono buttate, tutto quello che non conta niente, non si può, tutto quello che non serve a niente, buttarlo via, non si può, neanche volendo, non si può, un po', dai, uno sguardo, cosa butti via, tu incontri una bella ragazza, la guardi, a cosa serve, a cosa serve, niente, e la televisione c'è lì che guardi, i campionati di atleti, 100 metri, 200 ostacoli, ecco, il salto in alto, a cosa serve, se no, se no, delle volte vado per la riva del fiume, che c'è quando è una bella notte, e in alto, è pieno di stelle, dalla volta ma firme, che ci sono tanti di quei grilli, a cosa serve, non serve a niente, allora, ma via, 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 botta a vento, sta roba, comincio a buttare via, ste scatlo, via, andate via, fuori dalla finestra, via, botta a vento, via, via, cerina, cerina, no, cerina, ecco cerina, no, 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 oggi, lavare, stirare, dell'apporto, un'altra volta, adesso, c'è da fare un altro lavoro, no, no, io, io ho solo cominciato, ma basta, io mi fermo qui, andate avanti voi, ecco, vostro merito ha anche il furgone, sì, sì, ecco, adesso, avete un dovuto, tutta sta roba, via, buttatevi in quella, no, fate voi, fate voi, fate voi, ma sta solo a guardare, eh, come, piango, oh, vi sembrerà a voi, come c'è da piangere, tutta roba che ti sono del posto, no, via, via, mi voglio allargare, dai, 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 tu li soglia qui, via, lasciate solo una tavola, una sedia, una forzana, insomma, lo sapete anche meglio voi, quello che serve per, per campare, ecco, per vivere, per campare, cosa c'è bisogno in una casa, mangiare, bere, dormire, vamo là, da campare, il resto, il resto, è tutta rotto toglie, eh, che dopo magari faccio anche imbiancare, eh, ci vuole proprio una bella imbianchatura, eh, no, facciamo presto, facciamo presto, se vuoi, sgomme, in una settimana, va a finire, no, vi pago, vi pago, vi pago, vi pago, voi scegnate le ore, ecco, sì, sì, no, no, io non vado via, no, sto qui, però qui non faccio più niente, no, no, basta, basta così, sto solo a guardare, guardo, guardo, a voi, voglio solo vedere così, per ricordarmi, la mia roba che va via, e poi, chi lo sa, magari, è capace che mi telefoni la mia moglie, vedi che aveva ragione io, avvi, patac, che aveva ragione, moon 90識, grazie a te, grazie a te,